Sì, ringrazio anche io gli organizzatori, sono qua volentieri proprio per i motivi che citava Nicolò e cioè per il fatto che è evidente quanto poco si dibatta, si discuta di questi argomenti e forse anche in maniera più drastica, più accanita, vorrei rimarcare quanto l'area progressista, chiamiamola così, la sinistra storica, stia mancando clamorosamente un'occasione per impegnarsi, per rinnovarsi, per avvicinarsi a problematiche che toccano tutti noi, rimanendo invece arroccata su posizioni ideologiche che appartengono al passato, su schematismi, su che l'allontanano moltissimo da un pensiero critico necessario rispetto a quello che sta accadendo ora, adesso. Ed è per questo che ho accettato volentieri di parlare di queste cose che non sono il mio pane quotidiano, non me ne occupo diciamo vocazionalmente, mi interessano altre cose, e però siamo tutti coinvolti, quindi è impossibile non accorgersi di questo elefante diciamo di cui parlavi anche tu nella stanza. Ho preparato qualche appunto, qualche considerazione così insomma rapsodica, senza approfondire troppo neppure io, però ci sono delle questioni strettamente legate ai media, alla comunicazione di massa che vanno affrontate e alcune questioni più, ecco, più antropologiche, questo si è da affrontare in maniera più antropologica. Vorrei anzitutto recintare un pochino il discorso, non perché mi piacciono i recinti anzi, ma perché è un discorso che rischia di sbordare, no? Andiamo a parlare di mille cose e poi alla fine si sa, perché tutti noi abbiamo esperienza di dibattiti in rete soprattutto con amici o amici che sono diventati nemici o viceversa, con contrapposizioni nette, polarizzate, con cattiverie, che alla fine portano a una sorta di vicolo cieco dove si combatte una battaglia di fonti, di attendibilità delle fonti, no? Tu credi a questo, io credo a un'altra cosa, quindi il problema di fondo rimane una fiducia che c'è o che non c'è, lo scetticismo di cui parlavi anche tu, no? Legittimo, secondo me più che legittimo. Dunque qui, cioè io non vorrei parlare di medicina anzitutto, non è il mio campo, e neppure di diritto di giurisprudenza, vorrei piuttosto ecco attenermi alle premesse e alla presentazione che è stata fatta con queste due domande semplici, no? Quale ruolo ha avuto l'informazione di massa nella gestione della pandemia? E questa è la prima domanda, beh, e alla quale si risponde facilmente, sbrigativamente, perché l'abbiamo visto tutti, tutti che i gruppi, i grandi gruppi editoriali e le televisioni, le emittenti televisive, beh, si sono allineate a una vulgata istituzionale, hanno sostanzialmente fatto da portavoce governativi, e qua potrebbe anche finire il discorso, perché è innegabilmente così, con spinte anche molto zelanti, no? Anche omissioni importanti, cioè omettendo di fornire versioni e studi alternativi, con episodi di censura, di opinioni divergenti del dissenso, con creazione di un lessico bellico che era stato contestato fin dall'inizio, fin dalla primavera del 2020. In molti dicevamo, ma basta usare questo lessico da guerra, da trincea, da caduti, da virus nemico, e tant'è che poi ci siamo ritrovati il generale, figliuolo, e quindi abbiamo capito che era inutile protestare, perché comunque era stata fatta una scelta molto precisa, no? Cioè adottare una, diciamo, una tattica anche mediatica, parabellica, che non ha fatto bene, secondo me, e con quelle polarizzazioni di cui parlavi anche tu, Niccolò, per cui queste categorie assurde, no? Che dicono poco, con no-vax, ugualmente si diceva, no, ma guardate che non è questione di essere no-vax, cioè moltissime persone sono free-vax, caso mai, solo che la parola free, che in inglese vuol dire libero, è problematico, no? Perché ha innescato tutta una serie di critiche, di discussioni su che cosa vuol dire essere liberi. Allora, nella confusione generale, no? in questa criminalizzazione anche del dissenso, devo dire, in cui è stato concesso pochissimo spazio, no? Alle divergenze. Tutti noi siamo stati, insomma, martellati e ci siamo chiesti come mai e perché anche, il perché di questo allineamento. E io una risposta l'ho trovata e l'ho trovata in un documento che ho portato, che è del Ministero dello Sviluppo Economico, si trova su internet, se voi andate sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, e questo documento risale al maggio del 2020, poi è stata fatta un'attuazione nel novembre e si chiama Fondo Emittenti Locali ed è un contributo straordinario per la trasmissione di messaggi di comunicazioni istituzionali relative all'emergenza sanitaria. In pratica sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'istituzione di questo Fondo Emergenze Emittenti Locali, in favore di emittenti radio televisive locali che si impegnano a trasmettere un tot numero di messaggi, facendo, come dicevo prima, sostanzialmente da portavoce governative. Allora sono andato a vedermi la tabella, le tariffe pubbliche, le potete trovare anche adesso se volete, e così per completezza di informazioni vi do qualche dato che risponde alla prima delle vostre domande, perché, come mai c'è stato questo appiattimento alla vulgata istituzionale. Allora, la tabella è divisa tra tv commerciali, tv comunitarie, radio commerciali e radio comunitarie. Si parte dai più straccioni, dalle radio comunitarie, che prendevano e prendono fino a 3.000 euro per nove passaggi giornalieri, fra le 6 e le 12, un minimo 3 fra le 12 e le 18, un minimo 2 fra le 18 e le 24, è tutto indicizzato. 3.000 euro. Ok. Si passa fino a 30.000 euro se i passaggi sono 11, oltre 30.000 euro sul numero di passaggi giornalieri sulle radio comunitarie, diventano 14. Parlando di radio commerciali, le tariffe sono più alte. Fino a 20.000 euro di contributi per 10 passaggi, fino a 50.000 euro per 12, 100.000 euro per 16, oltre 100.000 per 18 passaggi giornalieri. TV comunitarie. Si parte da 4.000, si va fino a 40.000 per 11 passaggi, si va oltre 40.000 per 14 passaggi. E arriviamo alle tv commerciali, così vi faccio tutto il quadretto, come quando si dice and the winner is, si parte dal premio minore e si va al botto grosso. E il botto grosso comincia da 40.000 euro per 11 passaggi tra le 6 del mattino e la mezzanotte, si va a 150.000 per 14 passaggi, fino a 750.000 per 18 passaggi su una tv commerciale, e oltre 750.000 euro per 20 passaggi durante la giornata. e quindi questo mi pare che già risponda in maniera abbastanza chiara al quesito iniziale come si è comportata l'informazione di massa e perché lo ha fatto soldi, un sacco di soldi. Ok? Vabbè, e questa è una. Queste tariffe? Allora, queste tariffe sono, penso... No, 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 penso una tantum, cioè vengono date una volta, alla fine, dura sei mesi la cosa, nell'arco di sei mesi. Fondo Emergenza Emittenti Locali. Mi devo dire la verità, io avevo dei pregiudizi su una emittente televisiva che si chiama BioBlu, qualcuno di voi la conoscerà sicuramente, che è stata censurata quando aveva un canale su YouTube, si sono spostati sul canale 262. Avevo dei pregiudizi perché ragionavo in maniera schematica, anche io probabilmente, ma in maniera ideologica, di afferenze politiche o di afferenze partitiche. Ho cominciato ad ascoltare questi giornalisti e ho trovato informazioni alternative. Interviste soprattutto, interviste con avvocati, interviste con medici, interviste con studenti di antropologia. E ve lo dico perché facendo un po' di fatica, andando a cercare fonti alternative, qualcosa si trova. Ed è lì che ho appreso di questo fondo speciale per gli emittenti locali. Due parole sulle fake news, forse vanno dette, siamo in un clima di cosiddetta post-verità, a proposito di versioni contraddittorie. Mi fa un po' ridere questa cosa delle fake news, che ci sono sempre state, ma scusatevi, ricordate ai tempi di Saddam Hussein, quando si diceva che lui aveva le armi di distruzione di massa e non le aveva. Erano fake news istituzionali. E su Ustica, che l'aeroplano non era caduto per via di un missile. Era una versione istituzionale, ma era una fake news anche quella, perché poi è stato dimostrato. Per cui voglio dire, già la locuzione fake news è una locuzione a doppio taglio. Taglia chi la subisce e taglia chi la impiega. Mi è venuto in mente questo, perché ho pensato alla notizia, e qua siamo sul pezzo, alla notizia relativa alla presunta iniziativa dei famigerati Novax di bloccare i treni e i passeggeri che intendevano salire sui treni il primo settembre, ve lo ricordate, no? Questa notizia è andata a reti unificate e mi puzzava in qualche modo, cioè non mi tornava tanto plausibile, perché non era fattibile. Io ho la netta impressione che fosse una fake news, nel senso che sia stata architettata, inventata, e infatti non è successo niente, perché non ci sono stati blocchi dei treni, come facevi a bloccare i treni. Io credo che sia stata un'operazione mediatica, mettendo in campo non dei black block, ma dei green block, nuova locuzione, che aveva come scopo uno demonizzare, criminalizzare ovviamente la dissidenza e farla odiare dalla gente e in secondo luogo poter dire il giorno dopo, avete visto, non c'era nessuno, perché abbiamo presidiato con le forze dell'ordine, sono quattro gatti dissidenti, quindi tranquilli, non c'è nessun pericolo, quindi con questo doppio scopo. Ok, vado velocemente alla seconda domanda che viene posta nella presentazione di questo incontro, cioè quali processi sociali ne sono scaturiti. Insomma, tutti noi, penso, ricorderemo l'elicottero di Barbara D'Urso che inseguiva il povero bagnante solitario, quasi fosse un pericoloso talibano sulla spiaggia, eccessi di questo tipo, li abbiamo visti, la caccia al bagnante, ma non soltanto è dilagata, insomma, una paura che a causa del martellamento mediatico di cui parlavo si è trasformata in psicosi, in psicosi collettiva. Non occorre che vi faccia tanti esempi, lo sappiamo, lo stiamo ancora vivendo tutti sulla stessa pelle. Dal punto di vista antropologico è un fenomeno inquietante perché avevamo impiegato molti anni a attenuare, se non a sconfiggere, la paura dell'altro. Una paura dell'altro che è tornata, perché a tutti noi abbiamo esperienze di persone che cambiano il marciapiede quando ci incrociamo, camminando, no? E anni di movimenti progressisti umanitari, di ideologie solidariste, di modelli culturali, no? Anche da parte dei VIP, per dire, no? Cioè, era un mondo che stava diventando apparentemente, magari solo formalmente, migliore. No, c'è stato un grandissimo arretramento. Un aspetto che a me ha colpito molto è stato quello di un presunto collettivismo e di un comunismo della salute, di cui parlavo ancora un anno fa, Serena lo sa bene, perché ha visto i video che pubblicavo su YouTube, un po' così sbalorditi un anno fa, no? Una vulgata, secondo cui, insomma, sarebbe importante che tutti fossimo uniti in questo comunismo della salute che a me ricorda un pochino l'Unione Sovietica degli anni 30, insomma, esperimenti non molto felici di collettivismo che hanno causato grossi problemi per poi tornare, come diceva prima Nicolò, probabilmente ciascuno a farsi gli affari propri. Cioè, l'importante, cioè, il tuo virus, compagno, è il mio virus. Cioè, insieme nella lotta e poi, no, soltanto questo. Perché poi gli assetti politici ed economici rimangono perfettamente come quelli di prima. Quindi c'è qualche cosa che non va in questa storia del comunismo della salute. E passo a concludere con delle considerazioni relative non soltanto ai processi sociali innescati dai media, ma ai processi sociali che comunque erano già in atto. E sapete, a me interessa molto la fantascienza, no? Uno dice, vabbè, la fantascienza è un'altra cosa rispetto alla società in cui stiamo vivendo. Sì, sì, d'accordo. Però, poi, se vedete oggi qual è il sistema dei crediti sociali che sta operando in Cina, beh, era stato previsto nel 2016 da una serie fantascientifica che si chiama Black Mirror, che voi conoscete, e no, in un episodio che si chiama Nose Dive, dove appunto è in campo la perfetta rappresentazione del credito sociale, che poi è diventato realtà. Quindi la fantascienza a volte si avvicina moltissimo, è predittiva, tristemente e distopicamente. C'è un bellissimo film, Gattaca, che consiglio a tutti di vedere, di Andrew Nichols, che già preconizza, era il 97, mi pare, cioè preconizza, insomma, una società fatta di validi e di non validi su base genetica. Ed è questo un incrocio di competenze, di discipline, che mi dà molto da pensare in quanto antropologo, cioè la genetica, l'ingegneria genetica, e la biologia, no? La digitalizzazione dei dati antropometrici e sanitari è problematica. Non è neutrale, non necessariamente. È un'ottima idea se parliamo di medicina, di genetica applicata alla medicina, per l'eliminazione di tare, di tare genetiche del DNA. diventa un problemone quando è al servizio della sorveglianza o quando le banche dati diventano permeabili al mondo degli affari e del commercio. Voi sapete che in Inghilterra ci sono già delle assicurazioni che chiedono la mappa genica. La mappa del genoma umano è stata fatta nel 2000. Prima si è cominciato con altri animali. dal 2000 in poi tutti noi possiamo anche con poca spesa su internet arrivare a casa la mappa del tuo genoma. Beh, però se te lo chiede l'assicurazione ti può pennellare a seconda del tuo profilo genico una polizza perché sa perfettamente che tu hai la probabilità di avere determinate malattie. Ma chi dà quei dati alle assicurazioni? Qual è la certezza che i nostri dati sanitari siano al sicuro che non vengano commercializzati? E questa una leggevo l'altro giorno fa un po' ridere però è così a Bolzano è passata la banca dati dell'anagrafe canina per cui questo perché per combattere il fenomeno della deiezione selvaggia quando il cane fa la cacca poi tu puoi prendere un campione portarlo e si risale al proprietario del cane cioè mi stanche bene questo però ci sono delle tematiche che concorrono a farsi un'idea sul fatto che sta cambiando velocemente tutto uno scenario dal 2015 c'è un'azienda in Svezia che si chiama Epicenter che propone ai dipendenti l'inserimento di un microchip sottocutaneo in modo da poter schippare saltare procedure di autenticazione l'ingresso nell'azienda eccetera viene messo qui tra il pollice e l'indice sottocute non fa male e questo inserimento che è volontario non è obbligatorio però viene molto incentivato naturalmente e viene anche festeggiato dai dipendenti quasi come una nuova iniziazione antropologica di appartenenza a un nuovo gruppo dei microchipati ve lo dico perché sono tutti emergenze di fenomeni che contribuiscono a creare uno scenario l'ultimo dei quali è quello della donazione del plasma e della trasfusione e delle trasfusioni e della donazione di organi compatibili o non compatibili a seconda dei dati che compaiono sulle nostre tessere sanitarie che potrebbero diventare obbligatorie per decreto legge domani esce un decreto legge e dice tutte le persone che sono di gruppo A zero positivo per default alla loro morte debbono dare i loro organi lo dico come scenario a metà tra la fantascienza e l'analisi sociale allora ci hanno provato ci hanno provato perché se voi vi ricordate qualche anno fa era uscita la cosa del silenzio assenso per cui se tu non dicevi niente automaticamente donavi gli organi io posso essere favorevole o posso essere contrario alla donazione di organi però per favore cioè non è questo il metodo il metodo tecnico scientifico per cui una volta che tu acquisisci dei dati biometrici o sanitari li metti in una banca dati e poi dovresti anche garantirmi una certa protezione ok tutto questo che diciamo un po' a braccio così in maniera puntiforme per arrivare a parlare anzi a non parlare del Green Pass perché ovviamente in questo quadro dei rischi ci sono dei rischi ci sono perché sappiamo già che il suo uso è stato distorto rispetto a come era previsto dal regolamento europeo 953 serviva per agevolare la mobilità tra uno stato europeo e l'altro ed è diventato che se io voglio andare in biblioteca devo avere un lascia passare cioè è un po' diverso e i nostri dati che finiscono nella banca centrale i nostri dati sanitari sono al sicuro e finisco con questa domanda retorica grazie 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 grazie